presentati mi chiamo Gemma ho 82 anni questo è il mio sformato di riso si cucina il riso col dato poi quando è cotto si condisce con la mozzarella con un po di burro e il parmigiano bene e con gli piselli invece aspetta e poi si infodera uno stampo col prosciutto a prima si impura col burro poi ci si mette il prosciutto ok poi si mette il riso e si fa una specie di ciambellone poi si capovolge su un piatto se no si mette al forno per 20 minuti e poi si mette sul capovolge sul piatto che io cucino da parte funghi e piselli e lo metto nel buco ok poi c'è un po di pazienza che se gli piace cucina i funghi col gambo e lo metto attorno al ciambellone benissimo ecco il risultato salutaci nonna allora vi saluto a tutti quanti e vi dico buon appetito ciao ciao